Forse un cortocircuito all'origine dell'incendio divampato nel deposito di un capannone in via Roma, Modugno, nel Barese, a ridosso della zona artigianale. Fortunatamente non risultano esserci feriti. Le fiamme hanno interessato due piani di un capannone, all'interno del quale si trovavano accatastati soprattutto cartoni e tessuti. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto intervenute 11 squadre dei vigili del fuoco impegnate in lunghe operazioni di spegnimento per domare le fiamme. La densa colonna di fumo nero si è resa ben visibile a diversi chilometri di distanza, ma grazie alle favorevoli condizioni del vento non ci sono stati rischi che il fumo prodotto dalla combustione investisse il centro cittadino con conseguenti pericoli per la popolazione. Allo stesso modo per le operazioni di spegnimento effettuate senza gravi difficoltà. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che stanno procedendo ai rilievi utili per ricostruire cosa è accaduto. L'ipotesi dei militari resta quella del cortocircuito. Per il momento sembra esclusa la matrice dolosa, ma soltanto l'acquisizione di altre informazioni e delle immagini delle telecamere presenti in zona aiuterà a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.